Cari colleghi, buongiorno a tutti. Ieri è stato firmato il protocollo di intesa per i tamponi a prezzo calmierato da parte di Federfarma, Asso, Farm e Farmacie Unite. È stata una grande prova di compattezza della farmacia italiana che unanimemente ha deciso di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini, dei nostri pazienti, ma permettetemi di dire anche quella dei nostri figli e degli amici dei nostri figli. Il nostro impegno è stato unanimemente riconosciuto dal Governo e il Ministro Speranza durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri ha ringraziato le farmacie italiane, tutti i farmacisti italiani, non solo per questo ma per tutto il lavoro svolto durante la pandemia. È stato un grande riconoscimento. Sono consapevole di chiedervi un ulteriore sforzo, ma lo stiamo facendo per il nostro Paese, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per coloro che sono più grandi, per permettere a coloro che non hanno potuto vaccinarsi di ricominciare la scuola di presenza. E chi come me, papà, sa quanto è stato difficile per i nostri figli non andare di presenza a scuola dal punto di vista sia didattico che umano e in termini di amicizie. Sono consapevole dello sforzo, ma sono altresì consapevole che il Governo è al nostro fianco, ci sta riconoscendo un ruolo e altri in futuro di più importanti ce ne riconoscerà. Ieri il Ministro Speranza ha firmato il decreto ministeriale che introduce, come promesso, da settembre la remunerazione aggiuntiva per le farmacie. Questo è solo un piccolo segnale di quello che possiamo fare in futuro tutti insieme, ma soprattutto quello che dobbiamo fare come cittadini italiani per il nostro Paese che sta attraversando un momento di grande difficoltà. Quando decidete se fare o non fare i tamponi, pensate ai vostri figli, pensate ai vostri nipoti, pensate ai nostri ragazzi che devono andare a scuola a settembre e rincontrare le loro amicizie. Buon lavoro a tutti!